www.marizopoli.it Ne sentiamo parlare, intelligenza artificiale, intelligenza artificiale generativa, l'avremo sui telefonini, l'avremo ovunque, avremo i browser. Il collegamento tra il denaro, la gestione del proprio denaro e l'intelligenza artificiale. Sì, mi dice, non mi interessa un consulente finanziario, chiedo direttamente all'intelligenza artificiale di programmarmi per la mia impresa, per la mia famiglia, la gestione del denaro, vista sia come investimenti, sia come debito, come la gestione proprio del denaro. Ma la differenza è conoscere le domande da farle intelligenza artificiale. Che domande faccio? Quali sono le domande che riguardano la mia impresa, la mia famiglia, la mia persona? Quindi conoscere per decidere farà sempre la differenza. Quindi la conoscenza è la domanda che verrà fatta all'intelligenza artificiale. Buone domande!